E ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video, oggi voglio parlare di un minerale finalmente che è molto particolare ed è un minerale che è abbastanza, abbastanza raro Un po' di tempo fa io caricai un video sul canale dove parlavo dei 10 minerali più rari che si trovino in giro quindi i 10 minerali più rari del mondo praticamente uno di questi 10 minerali è appunto il minerale di cui parleremo oggi un minerale che è talmente raro che è fino anche più raro del diamante pensate che se ne trova uno ogni 10 diamanti quindi non parleremo di diamanti come questo ne parleremo in altri due video o forse in un unico video, non lo so, vedremo ma parleremo di questo minerale questo minerale da qui che non è un rubino attenzione questo cristallo rosso si chiama berillo rosso ed è uno dei 10 minerali appunto più rari che si sta sulla terra fino anche appunto più rari dello stesso diamante come dicevo prima questo appunto è più conosciuto con i nomi di Bixbite ma il nome Bixbite era il nome che aveva prima però si confondeva con un altro minerale da nome piuttosto simile cioè la Bixbaite spero di averla pronunciata bene siccome appunto i nomi sono molto simili decisero di cambiare nome e appunto li lettero il nome di Berillo Rosso o Smeraldo Rosso il nome vede proprio, ecco, sarebbe Smeraldo Rosso più che Berillo Rosso ed è questo qua pensate che questo minerale si trova quasi esclusivamente in una sola località nel mondo, ovvero nell'Oiuta ed è da lì che viene questo cristallo questo è un cristallo di quasi 3 cm beh no, forse 2 cm e mezzo non di più ed è di questo bel colore rosso ma occhio, ci sono dei cristalli che hanno un colore un po' più tenue che vengono tinti in effetti questo qua questo cristallo qua ha subito in particolare un trattamento che ne ha rafforzato il colore ma ovviamente io insieme a questo minerale ha il suo certificato che certifica che si tratti di una Bixbite o meglio Berillo Rosso o meglio Smeraldo Rosso naturale quindi è assolutamente un campione autentico di questo rarissimo minerale non sono stati trovati cristalli particolarmente grandi diciamo che i cristalli più grandi forse stanno anche al di sotto dei 5 cm quindi comunque sia i pezzi più preziosi che magari hanno anche un'ottima trasparenza questo è un cristallo un po' più opaco mentre appunto come dicevo pezzi che hanno un'ottima trasparenza vengono anche lavorati utilizzati come gemme magari vengono montate su gioielli vari mentre appunto gemme dal colore meno intenso vengono in effetti trattate per rafforzare il colore il trattamento può essere anche una semplice tintura in questo caso è un po' come l'agate al discorso quindi che magari un bagno in alcol dovrebbe in parte rimuovere il colore falso ma in ogni caso quei pezzi che hanno un colore un po' più tenue vengono trattati perché ha appunto dei cristalli un pochettino più appetibili ma che sono comunque cristalli naturali bisogna comunque considerare che appunto è una dei decenni naturali più rari al mondo quindi comunque bisogna anche sapersi accontentare e comunque sia diciamo trovare un cristallo di un buon colore di ottima qualità è ancora più difficile del normale cioè se già se ne trova uno di decenni diamanti uno di qualità proprio eccezionale se ne trova ancora più raramente e niente quindi io volevo solo condividere come questo acquisto che purtroppo non ho avuto la possibilità di esporre all'esposizione che ho fatto perché mi è arrivato dopo l'esposizione e quindi ormai l'esposizione era passata perché comunque era in programma di esporla però comunque sia ve l'ho fatta vedere in questo video in questo video un guido se lo merita ne avevo un altro in matrice naturale senza trattamenti né niente che purtroppo non riesco più a trovare e quindi ho dovuto aspettare di potermi ricomprare un campione come questo per poter appunto fare questo video e sono contento di avere in collezione questo campione qua perché comunque è un campione che diciamo è uno dei miei pezzi preferiti quindi ci sta assolutamente e niente questo è quanto io volevo condividere appunto questo pezzo con voi e adesso io vi do appuntamento a un prossimo video dove andremo a trattare appunto i diamanti no perché ci sono delle frizzanti novità le frizzanti chicchi in arrivo proprio in ambito diamanti quindi noi ci vediamo in un prossimo video alla prossima